Il tempo non è dei migliori, speriamo in bene. Stiamo attraversando tagliata. 7.30, siamo arrivati in zona Roccolo. 7.30, siamo arrivati in zona Roccolo. 7.30, siamo arrivati in zona Roccolo. 8.30, siamo arrivati in zona Roccolo. Sono le 10.31, abbandoniamo l'Alben. Cominciamo lentamente la discesa, lasciamo su un po' di amici. Tutto ok? Coraggio Adriano, che andiamo. Sassu! Stefano! Stefano! Sassu! 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 Grazie. 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 Che figura. Grazie. Butta in aria dai. Butta butta. Contenti bambini che avete visto la mepe? Contenti, bravo maestra.